Ciao a tutte, lei si chiama Paola e attraverso il nostro aiuto ha appena aperto il tuo centro estetico. Mai estetica. Ho aperto in provincia di Parma, a Basilica Goiano. La mia difficoltà era dire, apro, tiro sulla serranda e io non ho un pacchetto clienti, quindi non ho un cliente. Per cui volevo un sistema strutturato, fatto da persone esperte, che mi portassero dentro clienti con una strategia. Non ti ritenevi tranquilla dall'utilizzo della formazione? Perché? Perché quando, dalle mie esperienze lavorative, non riuscivo a spingere con i risultati fino a dove volevo io. Quando prometto di risolvere un estetismo, visto che ci metto la faccia, faccio spingere solo delle clienti, tempo, volevo che il risultato fosse garantito. In brevissimo vi dico, la Paola ha avuto da parte nostra tutta la progettazione iniziale e il supporto relativo ai programmi estetici, listino prezzi, quali tipi di aziende, non tanto i nomi, ma la qualità del prodotto, come doveva essere, quante dovevano essere le linee viso, quante dovevano essere quelle corpo. E poi soprattutto i funnel di acquisizione, come trattare una cliente, diciamo, nuova, da una cliente che diventa da nuova, fidelizzata, quali promozioni dare, quali avere invece pronte a livello sia risultato che tech, commerciale e economico. Dopodiché siamo andate là perché non basta, bisogna vederla anche lavorare manualmente. Quindi abbiamo fatto un giornato di formazione tecnica con una modella. Abbiamo fatto una selezione del personale. Cristiano ovviamente sapete che è l'inventore di iso e confidenze, quindi ha seguito tutta la pagina da Paola, con dei risultati che li fammelo dire... Beh, ottimi, dobbiamo dire, ottimi. Abbiamo aperto una pagina Facebook circa due mesi e mezzo prima dell'apertura del centro estetico, con l'obiettivo di farci conoscere nella zona e far conoscere Paola soprattutto e la sua professionalità. tramite dei contenuti relativi a quello che poi va a svolgere all'interno del centro estetico, Paola, si è raccontata e quindi abbiamo raccontato a cuore aperto quello che era il suo desiderio di estetica del centro estetico e che aiuti poteva dare... Numeri, numeri, numeri. Numeri, abbiamo attivato diciamo un'azione di contatti che è specifica, su misura, mirata per lei e ad oggi siamo riusciti a raccogliere circa 350 contatti di persone interessate alla sua attività, quindi non persone interessate solo ad un'offerta perché è differente la cosa. E nella prima settimana quanto sei riuscita... 40 appuntamenti. Quanti appuntamenti hai fissato già? 40 appuntamenti. Impagabile. Farsi conoscere in grande stile o comunque anche nel tuo modo di essere è stato fondamentale. Ragazze, ve l'ho presentata, mi ha fatto piacere e noi vi salutiamo e se avete bisogno di informazioni giusto che riguarda il sottomizzo... Potete commentare su questo video oppure cliccare sul link che vi lascerò nel post, quindi troverete un link di riferimento dove lasciare i vostri contatti. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!